...è stato un grande compositore tedesco, naturalizzato inglese nel 1727. È considerato uno dei più grandi musicisti tra il XVII e il XVIII secolo e in assoluto tra i più importanti della storia della musica. Influenzato dai contemporanei, in particolare da quelli della scuola italiana come Alessandro Scarlatti e Corelli, dai suoi conterrani, Bastoide, Heiser, Dianes Francesi, Louis-Louis, Chapelle-Pied, fino a François Coutelan, nonché dal britannico Henri Poussel, i suoi lavori ebbero un influsso fra i compositori delle generazioni successive. Primi fra tutti i maestri del classaggio... ... 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